Ciao Marika, il tuo problema è che le attaccature piatte e questo ti porta ad non avere volume nella parte alta della testa. Oggi ti voglio far vedere la tecnica del clipping e esattamente come si esegue. Andiamo ad applicare le clip in acciaio nella parte alta della testa, chiudendo così la riga naturale che si apre frontalmente, togliendole il volume. Applichiamo le clip pizzicando bene con le mani l'attaccatura dei capelli, questo per far sì di sollevare almeno di un paio di centimetri le attaccature. Continuiamo così fino alla parte frontale della testa. Ricordiamoci sempre di utilizzare delle clip in acciaio, questo perché il calore dovrà modificare la struttura del capello. Una volta terminato il clipping, andiamo a riscaldare con il diffusore con aria calda per un paio di minuti. Una volta ben scaldate le clip, utilizziamo l'aria fredda per un paio di minuti per imprimere bene la piega. Una volta raffreddati, andiamo a togliere le clip. Grazie a tutti.